Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Claudio Sardaro e oggi andremo a vedere cosa c'è nel mio zaino tecnologico per il Mobile World Congress. Avete già visto i video di Andrea e Luca e se non lo avete fatto vi lascio qui sotto i link in descrizione, ma adesso partiamo con la sigla e vediamo cosa mi porterò a Mobile World Congress. Bene, vedrete in questo video tantissimi accessori, molti dei quali Andrea Cervone non approva perché vedrete anche cover, no vabbè sto scherzando, in realtà c'è ben altro in questo zaino. E adesso partiamo subito con il prodotto zaino. Allora eccoci qui con il mio zaino American Tourister, lo trovate su Amazon chiaramente. Tra le caratteristiche più interessanti c'è questa bella fascia posteriore per poter far passare il manico della valigia e per essere sicuramente molto più comodi in alcune situazioni, soprattutto in aeroporto. Il retro è abbastanza traspirante quindi anche nel caso in cui dovessi indossare questo zaino per tutta la giornata non dovrei avere problemi dal punto di vista del calore, ecco diciamo così, anche se siamo in inverno. Gli spallacci anche se sono molto davvero molto leggeri, soffici e non danno fastidio. E' molto capiente, vediamo subito quante tasche ha ne abbiamo, una, due e tre più un'altra laterale più piccolina, utile per eventualmente mettere degli oggettini più piccoli, infatti adesso andiamo a vedere cosa c'è dentro. Nella tasca posteriore è possibile inoltre fissare un lucchetto per evitare insomma di subire furti perché qui dentro c'è un dispositivo molto importante. MacBook Pro Retina, 13 pollici, late 2013 con un bel SSD che sarà sicuramente utilissimo durante i montaggi video. Prodotto che mi accompagna davvero da molto tempo e devo dire che complice anche il fatto che è presente chiaramente la porta SD, difficilmente cambierò durante quest'anno, magari speriamo che duri ancora un bel po'. In questa tasca è possibile inoltre eventualmente mettere un tablet che non porterò al Mobile World Congress, devo essere sincero perché durante l'ultima esperienza di IFA abbiamo capito che avere due dispositivi in alcuni casi potrebbe essere complicato. A questo punto è meglio viaggiare un pochino più leggeri ed evitare di portare un tablet. Apriamo la tasca centrale, la tasca centrale è molto interessante lato fotografico perché abbiamo prima di tutto il manfrottino che avete visto anche nel video di Andrea con il mounter da smartphone sempre di manfrotto, devo dire molto solido, carino, utilissimo per alcune riprese anche in modalità selfie stick o comunque per eventualmente fare video in maniera un pochino più stabilizzata. Arriverà molto presto, probabilmente un'altra sorpresa che metterò in questa tasca ma vi faremo sapere meglio il Mobile World Congress. Avrò inoltre il caricabatterie per le batterie aggiuntive della mia Sony Alpha 6000 che adesso andremo a vedere, o meglio andremo a vedere dove è contenuta perché sta registrando questo video in questo momento quindi è un po' difficile farvela vedere. Si ricarica via micro USB quindi può essere attaccato anche eventualmente a un power bank, ha due posti per le batterie, ricarica le batterie in maniera abbastanza veloce, devo dire che è molto interessante. Nel pacco di questo caricabatterie ci sono anche due batterie aggiuntive, devo dire che funzionano molto bene, adesso sto utilizzando una di queste e qui invece ho la batteria originale della mia fotocamera. Fotocamera che sarà contenuta qui dentro, un case molto carino, solido, economico, senza troppe pretese che però ha parecchie tasche utilissime per eventualmente inserire delle SD aggiuntive o comunque eventualmente portare ai lati le due batterie qualora fossero entrambe cariche. Andiamo avanti, in questa tasca non c'è nient'altro, questa tasca però ha una sua volta una retina interna, molto comoda per oggetti più piccoli. Allora partiamo da un oggettino interessante, mi avete visto indossare un Apple Watch, al momento ho un cinturino sport loop di Apple ma mi piace anche molto la maglia milanese, maglia milanese che costa un po' troppo. Quindi ho trovato questa maglia milanese diciamo di terze parti su Amazon che sta durando molto, spero che ci sia ancora, vi lascerò chiaramente il link in descrizione qualora dovesse esserci ma vi dico la verità, ha quasi un anno, non ha particolari segni d'usure, al massimo trovate qualche graffio sulla chiusura però devo dire che è molto 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 buona. Beh io avrò un iPhone X qui in fiera con me e chiaramente adesso sto utilizzando insomma il microfono per registrare questo video quindi microfono audio tecnica che sta registrando devo dire molto molto buono, anche questo sarà contenuto in questa tasca e vedrete insomma qual è il suo prezzo. Chiaramente in realtà siccome è un lavalier molto normale quindi uno di quelli che si utilizza con degli vari adattatori insomma per registrare senza smartphone ho dovuto comprare anche un cavettino per trasferire insomma il segnale dello smartphone al microfono che se no non avrebbe funzionato chiaramente. Andiamo avanti e vediamo cos'altro c'è in questa tasca. Due custodie per due smartphone quindi capite che smartphone porterò alla fiera oltre l'iPhone X ma adesso ve lo faccio vedere. In questa tasca ci sono tanti oggetti interessanti. Partiamo proprio con il secondo smartphone OnePlus 5T con questa cover Sandstone Black e la versione Sandstone White del mio OnePlus. Devo dire è molto bello, molto utile avere due dispositivi di questo genere in fiera anzi forse porterò anche un terzo non ho ancora deciso. Poi ho chiaramente il caricabatterie del mio MacBook Pro. Poi poi poi. Plug Dash Charge del OnePlus 5T. Singolo power bank da ben 20.000 mAh ma dico mi basterà per una giornata voglio sperare quindi porterò solo questo già è pesante lui però effettivamente è molto comodo perché ha anche un ingresso lightning qui sotto quindi sarà molto più semplice la serie ricaricarlo avendo molti dispositivi Apple comunque avendo anche tanti cavetti sicuramente è molto più comodo per me. Ho anche un altro caricabatterie 3 porte ciascuna delle quali esce a 5V 2,4A ottima per l'iPhone X e anche per il power bank. Poi abbiamo auricolari da montaggio video di OneMore sono semplici auricolari non sono i near ma si appoggiano appunto alle orecchie dual driver costicchiano però effettivamente sono ottimi dal punto di vista della qualità e il cavo è in nylon così da non ingarbugliare almeno quella parte di cavo. E' carino anche il fatto che c'è questa custodia che ha una chiusura magnetica devo dire che sono buoni mi sto utilizzando da parecchio tempo e non li cambierei per nulla al mondo ma come ascolterò la musica in aereo? Vediamo un po' questo è un semplicissimo contenitore di auricolari pagato pochissimo su Aliexpress che contiene degli auricolari Xiaomi anche questi in realtà sono fatti in collaborazione con OneMore però all'idea di questo sono davvero molto buoni sono gli hybrid semplici insomma la versione precedente a quella attuale sono ancora in vendita costano davvero pochissimo e devo dire che per quello che offrono sono molto molto validi e buoni credo che valga la pena pensare di acquistarli soprattutto se non utilizzate spesso gli auricolari in ear magari appunto in aereo dove anche una riduzione del rumore passiva potrebbe essere utile ma efficace in alcuni casi poi abbiamo gli airpods auricolari molto semplici di Apple non apro la scatolina perché ci potrebbero essere problemi con l'audio al momento e sono contenuti in un'altra cover a loro volta in pelle questa è disponibile solamente su Instagram c'è un ragazzo brasiliano che vende questi prodotti devo dire che è davvero di grande qualità mi sono arrivate oggi alcune custodie vedete la recensione molto presto su iPhoneItalia.com però devo dire che è molto carina e sicuramente in fiera farà la sua figura andiamo avanti in questa tasca non c'è nient'altro passiamo ai cavetti sì sì passiamo i cavetti ah no 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 passiamo un caricabatteria particolare fast charge per iPhone X USB-C insomma il set originale di Apple devo dire mi sto trovando molto bene molto utile in condizioni particolari soprattutto quando mi serve una carica veloce ed effettivamente in fiera potrà succedere un qualcosa del genere qui abbiamo la mia cavetteria classica quindi USB-A Lightning originale Apple poi abbiamo un cavo micro USB USB-A semplicissimo insomma per caricare power bank e caricatore delle batterie della fotocamera e qui abbiamo un cavo Dash Charge cavo Dash Charge che ho acquistato in realtà su Amazon questo è il secondo mio cavo Dash Charge che però è originale costa molto poco su Amazon quindi vi consiglio di acquistarlo lì perché vale assolutamente la pena qualora chiaramente abbiate un OnePlus compatibile detto questo lo zaino è vuoto non porterò quindi con me né cuffie né iPad perché ripeto voglio viaggiare più leggero e sicuramente così lo farò anche perché ripeto questo zaino è davvero molto buono leggero tra l'altro impermeabile dovrebbe resistere bene anche a un ubifragio speriamo di non trovarci appunto sotto un ubifragio se no dovremo comprare anche un ombrello che tranquillamente potrà essere riposto qui dove potrò anche mettere eventualmente delle bottigliette d'acqua detto questo il video si conclude qui non vi ho fatto vedere la fotocamera perché sta registrando questo video ma in ogni caso questi sono gli oggetti tecnologici che porterò con me a Barcellona vi invito a seguirci appunto perché saremo lì tra pochi giorni per seguire tutte le conferenze la domenica 25 sicuramente ci saranno gli appuntamenti più importanti quindi vi rimando a quell'appuntamento seguiteci anche su Instagram perché faremo tantissime storie e posteremo tante foto da Barcellona quindi che dirvi un saluto a tutti e ci rivediamo a Barcellona